Anche l'ultima dimora sembra non avere pace. È quello che un cittadino nisseno ci ha segnalato presso il cimitero Angeli, le cui condizioni sembrano poco accoglienti. Transenne ingustodite e pandofole lasciate ai bordi dei marciapiedi. Lapidi abbandonati ovunque, ancora con il nome del caro estinto. E poi degrado generalizzato, sporcizia, vialetti impraticabili perché pieni di buche e asfalto di velto. Assenza di manutenzione ed erba alta rendono questo luogo sacro del tutto in ospitale. Non sembra essere affatto un luogo di pietà, pianto e dolore. Di tutto questo ne abbiamo parlato con l'assessore con delega ai servizi cimiteriali Cettina Andaloro. Di solito il martedì ci sono lavori di stimolazione delle salme. Ieri è successo proprio questo, c'erano delle pantofole messe da parte per procedere all'estimolazione delle salme. appunto. Posso già dire che è stato tutto ripulito già oggi, da mattina a tardi, tutto già pulito. Dopo le dichiarazioni dell'assessore abbiamo verificato che le pandofole sono state tolte ma il resto rimane immutato.